I legni si sono sostituiti al portiere impedendo il pallone di entrare. Capita e non devono abbattersi ora. Occhio alla progressione. Ottima lettura difensiva. Messi. Buona circolazione palla. Pallone scodellato. Possesso del pallone che viene recuperato. Cerca la verticalizzazione. Era buona l'idea qui, ma la posizione di partenza era irregolare. Secondo me non ha fatto il movimento giusto Pier, finendo oltre l'ultimo difensore. Deve fare più attenzione per evitare di sprecare questi palloni. Posizione irregolare che non è sfuggita l'assistente e non era facile. Passaggio intercettato. Pallone interessante. Lascia partire il cross. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volei non è uscita di parecchio. Ha più soluzioni. Palla riconquistata, possono ripartire. Giocata deliziosa questa. Taglia in mezzo al campo. C'è spazio per la ripartenza. Possesso gestito male. Buono il recupero. Buona lettura con il rinvio lungo. C'è i. Palla che viene intercettata. L'arbitro applica il vantaggio. Vaglia la misura del passaggio. Occasione importante per pareggiare. Rimeribile quel piazzamento del portiere che è lasciato completamente sguardita la porta. Hanno pareggiato, dunque. 1-1. C'è l'intervento del difensore che scadisce il pallone in out. Avanza, palla al piede. Possono sfruttarla per andare in vantaggio. Non riesce a liberare su questo cross. Tuffo decisivo del portiere. Cross verso il centro dell'area. Non è ancora finita questa azione. Attenzione. Porta il possesso del pallone. Attenzione. Sbaglia la misura del passaggio. Possesso perso. Può salire lungo la fascia. Recuperano bene il pallone. Grande uno contro uno. Cerca il secondo palo. Pericolo scampato. Decisivo l'intervento. Sarà corner. La mette in mezzo. Colpo di testa senza pretese questo. Occhio alla verticalizzazione. Ottima qui la giocata. Colpisce al volo. Super intervento qui. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner. E l'occasione va sfruttata. Come sottolineato anche dai tifosi. Palla verso il centro dell'area. Arriva il segnale di chiusura alle prime 45 con le squadre che vanno a riposo. a più piuttosto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chance per passare in vantaggio. Decisivo l'intervento del portiere che si è gettato tra i piedi dell'attaccante e ha recuperato il pallone. Ha rischiato grosso ma se l'è cavata la grande. Ce lo beve. Intervento fondamentale in area di rigore. Buona l'idea del cambio di fronte ma pallone impreciso. La legge è bene, ferma il passaggio. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Chance su calcio all'angolo per mettere la treccia e passare a condurre. Occhio al corner. Determinante il portiere su questa deviazione di testa. Ha letteralmente salvato la propria porta. Questa palla era destinata in fondo alla rete. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Respinge il difensore. Si ripartirà con un calcio all'angolo. Calcio all'angolo presa nel difensore. Calcio all'angolo presa nel difensore. C'è il pressi. Benito. Sagna. Messi. Può ricevere una posizione interessante. Ma va a servire il compagno sul secondo palo. ha calciato al volo da un'entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Pallone intercettato. Contrasto deciso. Palla fuori. Sarà rimessa. Messi. Può fermare da lì. Efficace l'uscita del portiere sui piedi dell'attaccante. Ha sventato il pericolo e ha recuperato la palla. E' da apprezzare per il coraggio soprattutto. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. La mette in mezzo. Recupera bene questo pallone. ha spazio. C'è stata la deviazione. Sarà calcio d'angolo. Batte lungo. E c'è il gol. E trovano di nuovo il vantaggio. La regia ci ripropone l'azione del gol. Partito tutto da questo calcio d'angolo. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Trova nel vantaggio. Al tramonto del match. Non c'era appena gelata per gli avversari. Ottimo qui Zuchitaka. Netta la posizione di offside. Ancora un quarto d'ora da giocare. Ha molto spazio per andare. Cerca una linea di passaggio. E c'è la rete. E c'è la trifletta. A Drake. Replay che sottolinea la sua ottima prova di oggi. Al di là dei tre gol parlo. Sta facendo mattire tutta la difesa. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Può avanzare a spazio. Cross è in mezzo. Interviene e sventa il pericolo. Difesa scoperta. Ha spazio per andare. Cross rimpallato dal difensore. Conclusione ribattuta. Sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto. Palla in mezzo. Non trattiene. Occhio alla possibilità. Prova il cross. Testa alta. Sventa il pericolo. Buono il tocco sulla corsa del compagno. Non ci sono dubbi. È fuori gioco. Peccato per loro perché poteva essere un'azione interessante. Non ha letto bene il movimento della difesa, Pierre. Doveva attendere il movimento giusto per inserirsi invece di scattare subito in avanti. Interrompe l'azione e recupera palla. La strada è libera. Può andare. Risolve problemi con un grande intervento. Ferma bene l'avversario. Può ripartire. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Attacca lungo l'out. Ci sono metri. Prova a metterla dentro. Recupera palla con un grande intervento. Azione che sfuma con il pallone che termina sul fondo. Sarà rimessa per il portiere. Prosegue l'avanzata. Un dettaglio di liberare l'uomo con questa giocata. Finisce il match con la felicità dei tifosi della formazione di casa per questa bella vittoria. Il risultato, Pierre, riflette l'equilibrio che c'è stato in campo. La strada è la strada. Grazie a tutti.